Siamo arrivati in un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte. C'è una chiesetta qui in cima e ci dovrebbe essere un bivio. Forse c'era un bivio più giù. Prova su di là. Quella lì dice la chiesetta, non è quella che c'è. Non penso. Ah, è vero, che fosse quella lì e da sotto. Sì, potrebbe essere quella lì. Sembrava più su e c'erano più vicino. Sì, è l'unica chiesetta che c'è qui in giro, quella lì. E allora la panorica è da sotto, c'è il panoramatico. Sì, certo. Eh sì, è il panoramatico. Klirapolo, sì. No, in realtà l'acqua è peggio, no? Sì, penso che sì. Voleva dire soccorso. Poi sembra asciutissimo. Questa è l'acqua. non li hanno mica messi in ordine di alfabetico in ordine di zona perché Bolas non è vicino a... Sì a lote, a lote ho fatto fatica a fare questa cosa qua nel senso che non ho fatto un tempo non so, poi mai la sera... la sera ne ho cucetanti però una sera per qualcosa o per l'altra ah sì ma stanno da qua non vai lì bene con il vento no ecco la tabella di alfabetico ecco qui siamo i primi e gli unici turisti per oggi non abbiamo speso niente, non abbiamo comprato neanche una birra e poi è notto a chiuso se c'è a presto il palo e noi siamo da caffè per a coppia avete fatto una buona correzione? se spieta è troppo enorme e non possiamo anche tenere la caffina a metà perché non possiamo tenere la caffina a metà perché ma stiamo sempre a prendere la punta ma stiamo sempre a prendere la punta dalla vola c'è solo indietro ma dalla spalla siamo venuti che vanno su a Scala a Scala a Scala a Scala a Scala e poi c'è Bolas a Scala e poi ci pieto temi di piccioni guarda ma qua c'è uno qua siano bianchi non so come no guarda quanti ce ne sono lì si ah no si si allora quando volete dicevano di non mangiarli piccioni perché non si sa che non mangiare in giro ma non c'è più niente in picciono Sì, 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 sì. C'è la vera. Piccione buono per quello. I piccioni li mangiavo perché mio zio Arbino ce li teneva i piccioni da mangiare. Poi mangi le quaglie. Non mangiare, non ha voluto. Le quaglie sono levate, gli danno anche i mancimini. Eh, ma dicono che gli sai sono più soltanti, se forse. Si tirano, sai cosa mangiano, mangiano la roba, hanno i metalli pesanti. Sì, vuoi saperlo. Ma gli uccellini, va bene, poveretti. Gli uccellini, non li mangiamo. Ma c'è chi va, già gli uccellini. Non lo so, vedete, sono più piccoli. Ma un negozio non l'ho visto. No. Stai portando a me, non lo so. Non lo so, sto vedendo, non lo so. Stai guardando a Altamari, non lo so. No, 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 no. Quattro gatti di abitanti che ci sono qua ai campani, una più vecchia da noi, se non puoi stare a pagare gli auto 4,80 euro per 2 mesi, quanto ci avrà guadagnato, ci avrà guadagnato un euro e 20 in più rispetto là, se lo compravamo sul mercato e lo vendeva qua, ci avrà già guadagnato un euro e 20. Abbiamo scurato al mercato con la linea per avere fatto confezione a sola e con la linea con la linea. Quella comodità te la faccio trovare qua, lì c'erano tutti i percorsi verdi del paese, sulle colline della Sorpesa e sopra, spero si cala la lacchia del posto. Sì, la lacchia è piatto. La faccio è più forte, lì c'è ora. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. 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 Sì, sì. 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 Sì.